direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi giovedì 25 marzo il jackpot ha raggiunto la cifra di 126 milioni 593 mila 101 euro il più alto d'europa le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo il via all'estrazione del concorso numero 36 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire i sei numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute in arrivo il primo numero il primo numero estratto è il numero 15 siamo al secondo numero con super enalotto si inizia già a vincere il secondo numero estratto è il numero 75 il terzo numero sta arrivando il terzo numero estratto è il numero 30 pronti per il quarto numero il quarto numero estratto è il numero 28 adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite il quinto numero estratto è il numero 52 è il momento di incrociare le dita stiamo per completare la sestina vincente il sesto numero estratto è il numero 86 dopo i sei numeri che assegnano il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme a 5 numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly di questa sera è il numero 37 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine d'estrazione ed il numero jolly 15, 75, 30, 28, 52, 86 numero jolly 37 ed ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite super in all'otto fino a 100 volte e premia anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti? il numero superstar di questa sera è il numero 32 ricontrolliamo tutti i numeri estratti del concorso numero 36 in ordine crescente 15 28 30 52 75 86 numero jolly 37 superstar 32 l'estrazione di oggi giovedì 25 marzo termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 126 milioni 500 mila euro il più alto d'europa è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 36 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del super in all'otto assegna 382 mila 864 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 126 milioni 500 mila euro il più alto d'europa sarà stato centrato il 6? questa sera il 6 di super in all'otto non è stato realizzato e il jackpot cresce ancora per arrivare a 127 milioni 600 mila euro abbiamo però una vincita con punti 5 più 1 realizzata nella ricevitoria Sisal di via banchi di sotto 31 a Siena ed ora vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6 l'unico 5 più 1 si aggiudica 606 mila 779 euro i 5 sono 6 e vincono 32 mila 667 euro ciascuno i 4 sono 472 e vincono 423 euro ciascuno i 3 sono 21 mila 631 e vincono 27 euro ciascuno i 2 sono 328 mila 122 e vincono 5 euro ciascuno ed in questo concorso sono state assegnate ben 14 mila 278 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella i 4 stella sono 2 e vincono 42 mila 379 euro ciascuno i 3 stella sono 79 e vincono 2780 euro ciascuno 100 euro vanno ai 1545 2 stella 10 euro vanno ai 9 mila 503 1 stella 5 euro vanno ai 21 mila 503 0 stella vi ringrazio per essere stati con noi Super Enalotta vi dà appuntamento a sabato 27 marzo giocheremo per un jackpot di 127 milioni 600 mila euro arrivederci a 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